Ragazzi benvenuti con questo nuovo video Calcio femminile, Serie A Roma-Juventus finisce 4-0 per le Bianconere che tornano la vittoria dopo aver perso la Supercoppa con la Fiorentina e vincono a Roma, sì sì, proprio a Roma voi dovete sapere che contro la Roma che ha acquistato i diritti della Res Roma proseguendo la tradizione sportiva della Res Roma un po' come ha fatto la stessa cosa che ha fatto la Juventus col Cuneo solo che l'anno scorso a Roma ci hanno fatto le striscioni contro e poi mi hanno insultato perché sta cosa l'ho fatta notare sul canale qua sotto andate a vedere i commenti di Res Roma-Juve insultando eccetera tutte cazzate su cazzate però adesso va bene, loro lo potevano fare detto questo, noi abbiamo preso il Cuneo abbiamo vinto il campionato loro hanno preso la Res Roma e prendono 4 pappine 4 pappine al Tre Fontane 4 pappine ora non ce l'ho ovviamente con i tifosi della Roma ce l'ho con chi mi ha insultato l'anno scorso sia chiaro, poi per il resto è giusto che così comunque la partita è iniziata subito bene la Juve ha attaccato pronti via c'è stato subito un calcio di rigore che Girelli ha sbagliato Girelli non è tranquilla secondo me c'è qualcosa che non va secondo me in certe ragazze nello spogliatoio e Girelli non personalmente credo proprio a livello sportivo c'è un momento che qualche sportivo può andare in difficoltà ma ciò non cambia il valore della giocatrice detto questo Girelli sbaglia il rigore nonostante tutto andiamo in vantaggio prima della fine del tempo con un gol di Gliona che tira e sul tiro c'è sembrava quasi una deviazione di Girelli con la punta ma poi Girelli stessa è andata dall'arbitro a dire che non l'aveva toccata quindi negando a quel punto il tocco è stato dato giustamente il gol a Gliona nel secondo tempo c'è stata l'esplosione dell'uragano l'uragano Aluco che realizza tre gol in una partita oggettivamente dominata dominata alla fine ma che alla fine finisce 4-0 appunto grazie alle reti di Aluco la Juve che come con la Fiorentina ha creato è solo che qua ha creato con più convinzione parliamoci chiaro alla fine i gol sono arrivati e devo essere sincero credo che alla fine Girelli a centrocampo finalmente è stato capito che deve giocare là con tre attaccanti anche se non c'è una punta fortissima ma tre attaccanti di ruolo come Aluco, Bonansetti e Gliona credo che già le cose vadano meglio detto questo era importante vincere oggi perché è una partita molto complicata a Roma in uno stadio come Tre Fontane dove io ho visto anche la primavera l'anno scorso è uno stadio bellissimo per questo tipo di partite è coinvolgente per le squadre di casa quindi ha ancora più valore la vittoria di oggi e niente Juventus batte Roma 4-0 le reti lo ricordo di Gliona e tre gol di Aluco ora mi raccomando per le bianconere subito testa bassa e pedalare perché non si deve mollare più un centimetro perché purtroppo quest'anno abbiamo già mollato troppo ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video ciao